C'è un limite a tutto. La pazienza è finita. Il campionato della Sampdoria non può essere deciso dagli arbitri, dai loro errori giganteschi, mastodontici, incomprensibili. Quello del duo Santoro-Marini ad Empoli è l'ultimo di una lunga serie. Sbagli che hanno anche condizionato e influito il risultato finale. È già difficile digerire, anzi molto difficile digerire, che il pallone toccato con la mano da Gabbiadini in appoggio sul terreno di gioco per attutire la caduta sia punibile. Ma ignorare e non vedere al VAR che Luperto, da tergo, da dietro, senza la possibilità di giocare regolarmente il pallone, lo stenda, lo butta giù, lo tamponi, è assolutamente intollerabile. Non bastano forse questi tre verbi per assegnare il giusto, chiaro, palese, lampante calcio di rigore?